Tornerà in aula il prossimo 11 di gennaio 2017 il processo per la mega discarica dei veleni di Bussi che dopo la sentenza di assoluzione per i vertici di Montedison in Corte d'Assise di Chieti, per la quale non sono mancate polemiche e inchieste su presunte pressioni sui giudici, oggi è tornato in aula per iniziare il percorso in appello. Dopo una breve camera di consiglio, il collegio giudicante della Corte d'Assise Aquilana, preseduto da Aldo Manfredi, ha respinto l'istanza di unio degli avvocati difensori Tullio Padovani che assiste Guido Angiolini, amministratore delegato di Montedison dal 2001 al 2003 che aveva chiesto la sospensione del processo e il rinvio all'estate in attesa che la Corte Costituzionale si esprima sulla legittimità della legge Girelli che ha ampliato i termini di prescrizione del reato di disastro colposo da 7 anni e 6 mesi a 15 anni. L'avvocato Padovani aveva chiesto al collegio giudicante di attendere la prossima udienza della Corte Costituzionale che a sue dire si potrebbe svolgere tra maggio e giugno dopo lo slittamento per dimissioni di un giudice relatore. La procura generale, rappresentata dall'avvocato Romolo Como, si è rimessa alla decisione del collegio evidenziando che in ogni caso sarebbe stato sospeso il termine della prescrizione per i reati su cui si procede. Il collegio alla fine ha stabilito di valutare sulla legittimità costituzionale assieme alla decisione che, secondo il calendario, arriverà entro il 31 di gennaio del prossimo anno. Secondo le parti civili l'istanza era comunque irrilevante perché il reato di disastro colposo è già stato prescritto. Il disastro doloso invece rischia la prescrizione entro la primavera del 2017.